Com'è questa esperienza da Ciceroni? Allora, sicuramente è un'esperienza formativa perché ovviamente ti aiuta ad approfondire un bene culturale che è all'interno della tua città e che a molti potrebbe essere anche sconosciuto. È vero, è molto importante. Poi a me è anche piaciuto, ha anche divertito e soprattutto mi ha dato la possibilità di sperimentare nuove cose. Ho parlato davanti a dei ragazzini che può sembrare banale ma in realtà è sempre una prova, è sempre un mettersi alla prova e soprattutto ho conosciuto il comune della mia città che prima non avevo mai visto, ad esempio, non ero mai entrata a vedere tutte queste sale e conoscere certe curiosità che magari non tutti conoscono. Dove siete stati? Allora, io ho preso i ragazzi all'inizio proprio, alla Cantoni e insieme ad altre due mie compagne abbiamo fatto vedere la Cantoni, l'area dove c'era la fabbrica dell'acqua e siamo arrivati fino qui in comune dove poi abbiamo lasciato le classi ad altre nostre compagne. Mentre io invece mi occupo di questa immensa sala. Che è meravigliosa. Assolutamente incredibile. E soprattutto è importante anche a livello storico. Attenzione, vediamo per esempio il soffitto che riporta tutte le capitali che si sono susseguite in Italia.